Appena tu fai queste cose, Masha, perché io mi arrabbio, appunto, basta, ma perché ti arrabbi, scusa? Dammi questo telefono, aspetta, aspetta, perché non devo accendere ancora, ma scusa, a scuola chi è che piange? Dani, e poi? Sandy, e poi? Sandy, e poi? Sandy, e poi? Battolino, e Eugenio. Battolino, e Eugenio, piangono tutti? Sì, tutti, ma allora, Battolino, Mamonelli, che mi fa male a testa, però, punto, e basta. A te ti fa male a testa? Ma a me? Perché tu mi fa male a testa a me? Ma tu io lo dici di non piangere? Tu mi devi dire, non si piange. No, non si danno le botte. Con il legno? No, tu io lo dici alla maestra, e ti dici la maestra, diglielo a Sandy che non si piange. Così? Andami, e Eugenio basta, punto. Perché lei non mi fa male a testa, però, punto, e basta. Ok. Lei non mi fa male, la dieta mi fa male a testa, punto, e basta. Punto, e basta? Perché lei non mi fa male a testa, così che c'è un freddo, che lei non mi fa costruire, non mi fa giocare, non mi fa piangere, non mi fa mettere nel passeggino, non mi fa dormire. Ma è buon'ella, allora? Basta. E' buon'ella, ma chi è lei non mi fa male a testa, perché io dormo e mi fa imbatto. Ok. Ma tu ti comporti bene a scuola? Ehm, no. Simonella? Sì. Pianco. Pianci? Anche tu piangi? No. Ma fa buonatale? Niente. Ma me, boonatale, piangono tutto il giorno, è il coccodrillo, basta, punto. È il coccodrillo? Oh, che dici questo coccodrillo? Ma Daniella, amore, basta, perché è il morello, Daniella, che mi fa male a testa, lei piangi tutto il giorno. Ma perché? Perché? Perché è il morello, basta, punto. Hm, va bene, va. Oggi non possiamo andare a Ninna, ora? No, vuoi la massa? No, vuoi la massa? Sì. Prima dobbiamo fare l'impasto. L'impasto? A questa notte è tardi, sono le 10. Ma perché lei mi lega? Mi lega, mi lega però. Ah, ma tu hai fatto l'impasto a scuola, hai fatto i biscotti? Sì, con le palline dentro, piccolini, là però, c'era un bell'impasto, ma piccolo, piccolo. Mh, hai fatto questi biscotti? E che forma erano questi biscotti? Le palline che abbiamo fatto l'impasto, così. E poi cosa è uscito da queste palline? Ho visto io una stella cometa? Io l'ho detto a Dani che non ci piange, glielo dire alla maestra, perché è il morello lei, non piange, ma mai. Ok. E il morello, morello, morello. Va bene, va bene. Va bene. Mmm, massa. Andiamo a vedere la massa. Di qua c'è il beccolo. Ma ci non sta la cintura? Ma mandami un bacetto. Però lei non mi fa male, perché io ti ammaggio, appunto, e basta. No, io non ammaggio a nessuno. Non si alzano le mani. Però lei, il beccolo non si fa l'acqua, appunto. E basta, e piva. E peccolo.